... dei prodotti che servono per, non dico per esterminarle perché non riesci mai a esterminarle, ma comunque per renderle un po' meno fastidiose. No, perché la stanza da letto non ha fatto la suite. Bene, immagino le notti. No, guarda, incredibile. Le ciabattate sui muri con cadaveri di zanzare ovunque. Sì, con le croci, anche la data, le dediche, perché quella più grossa me l'ha sembrata la mamma, quella più piccola. Perché mi parlavi di zanzare? No, proprio perché mi sto grattando nel frattempo e ti chiedo scusa se ogni tanto mi allontano dal microfono. Detto questo, visto che non mi si apre internet e non posso prendere la notizia che avevo deciso di commentare con te a questo punto. Direi di passare rapidamente ai saluti. Guarda che contento. Domani due, domani il mio portatore aprivo a vedere e facciamo due. Due notizie, va bene. Due notizie, va bene, per recuperare quelle di oggi. Va bene, sarà per domani, tanto sono le 16, quindi... E' meglio. Ciao. Ciao. A Max Braccia, buon pomeriggio insieme al...